Non ci ausiamo! Capuccio! Parti! Addirittura Cityway che si porta a condurre nella prima fase su Moisey, su Zaval, largo Open Dream che ha partito insieme agli altri, Mike Kuhn ha contatto su Lilion per via interna e Bainkos che chiude il gruppetto. Cityway in questa veste da frontrunner davanti a Zaval che in seconda tira come uno sesso, al terzo Open Dream allo steccato Moisey con vicino Lilion, poi Mike Kuhn e Bainkos che chiude il gruppetto. Un gruppetto comunque compatto che vede sempre Cityway in avanti, al secondo posto Zaval con la giubba argento, all'esterno con le maniche verne invece rimane Open Dream, al quarto Moisey in giubba bianca e azzurra, al quinto con la giubba arancia rimane invece Mike Kuhn, Lilion in giubba turchese che tiene al suo esterno in bianco rosso vero, Bainkos. Queste le posizioni con i cavalli che stanno andando al completamento della piegata finale, tutti dietro a Cityway che completa la stessa in avanti su Zaval al suo interno, Open Dream che anticipa la risalita esterna di Mike Kuhn, poi Moisey che adesso prende spazio, Lilion e Bainkos che viaggia a largo di tutti, Cityway che va in lunga accelerazione, su Open Dream che non si fa pregare per andare in pressing senza però guadagnare molto in questa prima tornata, all'esterno Mike Kuhn e poi Moisey, poi Bainkos e altri due battuti, Cityway che reagisce all'attacco di Open Dream, all'esterno Mike Kuhn che si impegna in maniera gagliarda, poi ancora Moisey e Bainkos a largo di tutti, Cityway da solo al comando, su Mike Kuhn, all'interno Moisey, poi ancora Bainkos, battutissimo Open Dream e Mike Kuhn che prova ad andare in caccia di Cityway che è ancora in vantaggio, Mike Kuhn che ci prova, Cityway che tiene botta, Cityway e Mike Kuhn, Mike Kuhn e Cityway in lotta fin sul palo, davanti a Bainkos e Moisey. Alto arrivo dall'altissimo tasso spettacolare tra Cityway e Mike Kuhn, andiamo a rivedere sul massimo schermo, all'interno Cityway a largo Mike Kuhn che rimonta la sua avversaria passo dopo passo, vediamo un po', e questa è stretta, si va dal giudice. Grazie. 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 Grazie.